Per la rubrica dedicata alle vostre segnalazioni oggi ci troviamo in via Eleonora d'Aragona nell'area sottostante a piazza Angelo Scandaletto di Sciacca. Come si evince dalle fotografie che ci ha inviato il nostro telespettatore, nelle fessure presenti nei marciapiedi sono cresciute spontaneamente queste bellissime piante e fiori, segno che ironicamente da un lato la scervatura in zona non viene effettuata da tempo e dall'altro che la natura abbellisce in modo autonomo quello che non riesce a fare l'uomo o l'amministrazione comunale di turno. I fiori, molto belli, colorati e profumati, ricoprono interamente il marciapiedi e riducono anche lo spazio disponibile per la sosta delle autovetture. Anche gli alberi posti proprio sotto la piazza avrebbero bisogno di un urgente intervento di potatura. Prima che si verifichino cedimenti improvvisi, sollecitati magari dalle condizioni meteo proprie dell'ormai prossima stagione invernale. Si richiede dunque un maggiore decoro e pulizia per l'aria in questione, ma senza tralasciare al tempo stesso quanto la natura ha offerto in modo autonomo. E ci spostiamo adesso in zona perriera. Sono trascorsi già tre mesi dall'ultima edizione del carnavale di Sciacca, eppure in prossimità di uno dei cosiddetti varchi di accesso, quello di via Porta della Perriera, è presente tuttora uno scatolone con all'interno locandine, indicazioni per i ticket e misurazione dell'altezza dei bambini per stabilirne l'accesso gratuito o meno. E' stato lasciato tutto lì, e lì è rimasto soltanto che adesso all'interno di quello stesso scatolone viene abbandonato di tutto, rifiuti, sacchettini con deiezioni canine e tanto altro. Si chiede anche in questo caso che lo scatolone venga rimosso dagli addetti allo smaltimento rifiuti, in modo tale che si restituisca decoro alla zona e si eviti in quel punto il sommarsi di altri scarti.